Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video per chiudere in bellezza la giornata ottenuto questo contenuto per la fine perché dopo aver fatto ammattire quasi tutti gli interisti che sono purtroppo per loro entrati nel mio canale per andare a vedere il video dove raccontavo dell'articolo e la faida proprio tra Lautaro Martinez e la Gazzetta dello Sport quando un po' di pressione viene messa sul capitano e su alcune dichiarazioni che avrebbe fatto proprio quest'ultimo se ve lo siete persi ve lo metto come sempre a fine di questo contenuto come miniatura ci cliccate e lo andate a vedere basta mettere un po' di pressione nel mondo inter che saltano subito i nervi e allora per chiudere in bellezza per fargli scoppiare il fegato questo è l'ultimo contenuto della giornata prima di partire con la lettura dell'articolo che sicuro non farà piacere ai merdazzurri come sempre io vi invito a mettere un bel like e a commentare solo dopo aver visto il video per intero condividi a manetta facciamo sentire a tutti gli interisti che non vogliono sentire come stanno andando veramente le cose e non come ci raccontano alcuni media al sordo di qualcuno con gli occhi storti iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto se volete come vi dico sempre su instagram potete contattarmi in privato il link lo trovate in descrizione peter underscore pan underscore bianconero ma bando alle ciance perché la notizia fa godere i tifosi della juventus era trista e innervosisce i tifosi dell'inter tifosi dell'inter che oggi comunque sono stati tanti a commentare sul mio canale diciamo che anche molto educatamente hanno manifestato il pensiero contrario al mio quindi fino a quando fate così va tutto bene possiamo continuare a commentare a parlare a chiacchierare quando ci sono degli insulti sul personale allora purtroppo parte il ban immediatamente quindi detto questo la monelig del calcio mondiale juve prima in italia ma che gap perché effettivamente sappiamo che tra il calcio italiano e il calcio europeo gira un mondo completamente differente andiamo a vedere com'è la classifica del calcio europeo dalla prima alla quattordicesima perché ci sono delle belle novità per la juventus soprattutto dopo aver visto il passato che ha avuto la juve di tempesta dentro e fuori dal campo grazie naturalmente a gravina ma in primis come vi dico sempre grazie al nostro proprietario presidente chiamatelo come volete anche se Ferrero fa le veci del presidente ma quello che conta è Elkan colui che è sempre in silenzio e accetta tutte le porcate che vengono fatte alla juventus nonostante ciò godiamo perché al primo posto vediamo qua esserci non poteva che non essere altrimenti il Real Madrid con più 831,4 milioni più 16% rispetto al 2021-2022 naturalmente ricordiamo che questa è la monelig per quanto riguarda il campionato 2022-2023 sembra che sia anche abbastanza logico al secondo posto troviamo il Manchester City con 825,9 milioni il 13% in più rispetto all'anno prima al terzo posto il Paris Saint Germain con 801,8 milioni il 22,5% in più nonostante tutti i soldi che ha speso comunque il Paris Saint Germain ancora la Champions non è arrivata e ricordiamo alcuni dei campioni che sono passati da lì Bappé, Messi, Ibrahimović e nonostante ciò la Champions League non è arrivata ma lì non soffrono della sindrome o dell'ossessione della Champions come alcuni di noi juventini detto questo al quarto posto ci troviamo il Barcellona con 800 milioni di euro più 25,4% rispetto all'anno precedente al quinto posto il Manchester United con 745,8 più 8,3% al sesto posto il Bayern Monaco più 744 milioni più 13,8% rispetto all'anno prima ancora non si vede l'Inter ma quello che sappiamo è l'Inter è dietro la Juventus andiamo a vedere dove perché c'è una sorpresa non è solo dietro la Juve al settimo posto abbiamo il Liverpool con 682,9 milioni meno il Liverpool è in perdita rispetto all'anno scorso 2,7% all'ottavo posto c'è il Tottenham 631,5 con più 20,8% al nono posto abbiamo il Chelsea con 589,4 milioni più il 3,7% e arriviamo al decimo posto c'è l'Arsenal con 532,6 milioni più 22,9% all'undicesimo posto attenzione attenzione la prima tra le italiane è la Juventus con 432,4 milioni di euro più 7,9% e questo è un dato che dobbiamo tenere a mente perché la Juve viene comunque da un campionato disastroso dove è stata penalizzata dove ne ha subite dentro e fuori dal campo e questo naturalmente gli ha fatto perdere parecchi soldi e nonostante la piccolissima percentuale di crescita che è il 7,9% andiamo a rivedere si trova davanti davanti al Borussia Dortmund con il più 420 milioni più 17,6% e poi arriva una delle italiane il Milan attenzione a questo dato perché il Milan è a 385 milioni col più 49,7% quindi praticamente ha raddoppiato quasi il suo i suoi introiti e nonostante ciò è dietro la Juventus che ha fatto solo il 7% in più questo sempre grazie a quel famoso accordo o patteggiamento che gli ha fatto perdere tanti tanti schei al 14esimo posto vediamo i ladri d'Italia all'Inter con Lautaro Martinez di cui oggi ne parlai ho parlato nel video precedente e i tifosi interisti non l'hanno presa bene perché naturalmente non puoi mettergli pressione non puoi giudicare qualcosa non puoi appioppargli un aggettivo perché loro sappiamo sono gli onesti e poi reagiscono male l'Inter con 378,9 milioni o più 22,9% è comunque la terza squadra italiana per ricavi nel 2022 2023 quindi tanto per cambiare poi via via ci sono tutte le altre ma a noi non ci interessa ci interessava far vedere la differenza che c'è tra una squadra che è stata presa di mira e disastrata durante il lungo il cammino di tutto il campionato è una squadra invece che ha fatto addirittura il 22% in più rispetto all'anno prima quindi le cose sono andate abbastanza lisce nonostante non siano riusciti a fargli avere la Champions League perché il Manchester City si è messo contro quindi l'Inter comincia ad avere le pressioni e cominciamo anche a fargli notare la realtà dei fatti come stanno le cose non siete né i più puliti e nemmeno i più ricchi come raccontavano loro con Suning continuate ancora a rosicare questo purtroppo è la storia che si ripete sempre la Juve vi è sempre davanti anche in questo caso terzi chissà che magari arrivando terzi non vi danno anche lo scudetto della Money League del 2022 2023 detto questo è il video finisce qua se sei arrivato fino a qua se è un supererò non ti rimane che mettere un bel like commentare e condividere a manetta questo contenuto e vi saluto buonanotte a tutti ciao oi 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 ciao